Dall'autore di Noi non siamo come James Bond, il nuovo film di Mario Balsamo. Tutti abbiamo una madre, non solo i grandi registi. Quella di Mario è scorbutica. No, 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 no. Bella. Sembra un po' Raffaella Carrà. Dolce. Grazie. Capricciosa. Tutti i giorni mi portavo un regalino. Lui, papà. E io lo pigliavo e io lo pestavo. Unica. Io non mi paragono a nessuno. Io sono Silvana Stefanini. Sarà perché lei fa l'attrice. Sempre con quest'attrice che ho fatto nel passato. Ma chi se ne frega, ormai è passata. Io non ci penso più. Silvana Stefanini. Su internet. E chi mi ci ha messo? C'è un brutto film. No, brutto brutto no. Però... Ma tu l'hai visto? No, no. L'ho trovato da un collezionista, ma non è stato per niente facile trovarlo. Una cosa preziosa. Ma ora mi vuoi bene, no? Ancora non è facile abbracciare tua madre. Per me è difficile, è complesso. E chi se ne frega allora? Devo sfruttare i tuoi ultimi momenti, no? I ultimi momenti? Boh, stop. Com'è andata? Mia madre fa l'attrice. Un film di Mario Balsamo. Al cinema.